Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Barbara D'Urso ha annunciato con gioia la nascita della sua seconda nipotina, condividendo la notizia con i suoi 3 milioni di follower su Instagram. La conduttrice si è mostrata sorridente accanto alla nuora Giulia, moglie del figlio Gian Mauro Berardi, ringraziandola per la gioia che le ha regalato. La piccola è arrivata il 8 ottobre, ma al momento non sono stati rivelati né l'orario di nascita né il nome scelto per lei. Tuttavia, in un video pubblicato precedentemente, Barbara aveva lasciato intendere che si trattasse di una femminuccia, suggerendo addirittura la possibilità di gemelle. Questa è la seconda volta che la conduttrice diventa nonna, dopo aver vissuto la gioia della nascita di Matilde nel 2022. Barbara D'Urso ha sempre mostrato grande amore e felicità quando si tratta della sua famiglia, pur mantenendo una certa riservatezza sulla loro privacy. La notizia dell'arrivo della nuova nipotina è stata condivisa tramite una storia su Instagram, ma è stata cancellata poco dopo la sua pubblicazione. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli da parte di Barbara, che sicuramente è piena di gioia in questo momento speciale. La conduttrice ha sempre espresso tutto il suo affetto per i suoi cari, trasmettendo un grande amore per la sua prima nipotina e per... Grazie a tutti!